La diplomazia statunitense fatica ad alleviare la tragica situazione di due milioni di palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza, con scorte di acqua, cibo e medicine, ormai gli sgoccioli. Anche l'Europa dovrebbe entrare pienamente in campo. Intervenendo in Albania, dopo un vertice comunitario, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un ponte aereo per aiutare Gaza. Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz conferma che questa settimana si recherà in Israele e in Egitto per contribuire a far arrivare gli aiuti e per impedire all'Iran di entrare in guerra. A New York il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha temporaneamente sospeso la sessione su due risoluzioni concorrenti sulla situazione a Gaza e in Israele. C'è controversia su diversi testi. Le richieste della Russia sono per un cessato il fuoco umanitario, mentre le richieste del Brasile parlano di una pausa umanitaria per consentire l'accesso degli aiuti alla striscia di Gaza assediata.